A nostro avviso a livello regionale si sta aprendo una discussione, riteniamo opportuno che due città importanti della zona sud della Toscana, Siena e Arezzo, debbano avere un collegamento diretto. Ovviamente sono separate da delle montagne, da delle colline, sono due vallate differenti, viaggiano di per sé in termini paralleli, in termini geografici, però è importante che due capologhi di provincia così importanti, due città storiche, abbiano un collegamento diretto. Quindi il fine è creare un collegamento ferroviario diretto tra Siena e Arezzo, indipendentemente dallo snodo di Sinalunga. Oggi un cittadino di Siena prende un treno che va a sud, a Chiusi, e dovrebbe scendere a Sinalunga, a Sinalunga salire su un altro treno, peraltro lì c'è la gestione di LFI, andare ad Arezzo, peraltro sono due linee ferroviarie che hanno soggetti gestori diversi e hanno un'alimentazione differente. A breve circoleranno su queste tratte ferroviarie dei treni che hanno la possibilità di viaggiare con un doppio livello di alimentazione e questo è un elemento di novità importante. Serve un braccio, un collegamento che fondamentalmente colleghi le due linee per evitare e quindi semplificare il percorso, rendere una tratta unica per fare la cosiddetta Siena-Arezzo, l'Arezzo-Siena. Credo che sia importante, soprattutto in termini economici, soprattutto per lo sviluppo e le relazioni dell'università e soprattutto anche per le questioni di carattere sanitario, aziendale e per dei territori. Quindi è un investimento sul quale a livello politico c'è condivisione nella maggioranza di governo che governa la regione toscana, l'Italia Viva e il Partito Democratico. Il Presidente si è espresso disponibile a prevedere nella prossima linea di finanziamento. Noi dovremo, a mio avviso, definire questa linea di programmazione negli strumenti di programmazione dal DEFRE al piano regionale di sviluppo e a quel punto io ho avuto già modo con un emendamento di inserire anche l'elettrificazione della Chiusi Siena. Questo consentirebbe di avere un processo di elettrificazione, qualora progettato, con RFI e tutto, anche di un'unica linea Siena-Arezzo, ma allo stesso tempo credo che nel breve periodo un cittadino di Arezzo e uno di Siena debbano avere una risposta più veloce e la risposta veloce è questo collegamento delle due linee ferroviarie e credo che si possa fare rapidamente. È un progetto che se ne parla, diciamo, da 3-4 anni e credo, rischio di sbilanciarmi, però insomma che questa legislatura troverà questo investimento il compimento di un sogno che non era scontato solamente qualche anno fa. Grazie.